E' il gelese Giuseppe Licata, già segretario del Circolo Gela Città e anche consigliere provinciale del PD, il nuovo presidente provinciale di Sicilia Futura. E' stato eletto sabato scorso nell'ambito dell'incontro che si è svolto a Caltanessetta. Il movimento politico fa capo all'ex ministro Salvatore Cardinale, presente tra gli altri l'ex assessore della giunta Fasulo Giuseppe Ventura, tra i fondatori di Adesso Gela. E' evidente che ora ci aspetto un lavoro fatto con responsabilità, abbiamo detto, in cui non c'è soltanto la mia scelta personale, c'è una scelta collettiva di tanti uomini e donne che credono fermamente di poter sviluppare le politiche attive per la città. Hanno questa passione per la politica e evidentemente, dinanzi a un ambiente sorda, molto ostile, in una fase in cui gli schemi attuali della politica non consentono sufficiente vitalità, noi riteniamo e siamo sicuri che Sicilia Futura rappresenterà un grande spazio di libertà, di autonomia, uno spazio di vitalità in cui fare veramente politica, inaugurare la politica dell'ascolto. Ho detto che i partiti tradizionali hanno perso proprio questa indole, inaugureremo la politica dell'ascolto e dell'incontro. In realtà, l'ascolto e incontro cominceremo ad attivarci nei vari paesi della provincia, anche a Gela, dove inaugureremo questa fase congressuale con i congressi e i cittadini. Sicilia Futura che apre soprattutto agli esponenti RPD? Sicilia Futura apre a tutte quelle persone che, sendo libere, che non sopportano più una prepotenza, un'arroganza politica, una politica chiusa, incapace di riformarsi, incapace di cogliere anche quello che è il cambiamento della trasmissione sociale, di essere poco inclusivi, tendenti ad escludere. Noi includiamo tutti, è uno spazio aperto. Noi vogliamo essere protagonisti con il principale obiettivo di avanzare delle idee e avanzare dei progetti. E soprattutto di essere riformisti, iniziare quella che è per noi un'attività di riforme anche a livello regionale della politica. Ma a livello proprio locale, Sicilia Futura come si inquadra nel contesto politico? Faremo il congresso cittadino. Sicilia Futura c'è l'interessamento forte, evidente, chiaro del polo civico. Faremo sicuramente un gruppo consigliare e in prossimità si chiama, dopo il congresso cittadino, allargheremo ad altre forze politiche. Più che forze politiche le chiamo a tanta gente che ci chiama, che vuole tornare a fare politica, ma dove nei partiti non riescono più ad esprimere le loro idee, vogliono essere ascoltate e vogliono incontrarci. E' chiaro che il nostro obiettivo è questo. Da qui, a breve, abbiamo due sfide. La sfida nel territorio nostro, nei territori, io parlo anche di Mazzarino, Butera, Riesi, Niscemi, nella parte sud e nella parte nord, dove inaugureremo questo grande spazio di libertà che è Sicilia Futura. E poi c'è la sfida del referendum del 4 dicembre. Nella sfida tutta siciliana nei territori c'è Gela e Gela sarà protagonista con il suo gruppo consigliare.